Musica Ospiti autorevoli, dialoghi e confronti sul tema dell'ambiente. Sabato 9 marzo è la giornata clou del festival Circonomia a Fano per una settimana capitale italiana della transizione ecologica. La manifestazione ha al centro l'economia circolare e ha scelto la cornice prestigiosa di Pesero 2024 per aprire la sua nona edizione cui a maggio seguirà l'appuntamento ormai tradizionale in Piemonte durante i 5 giorni del festival 34 eventi con oltre 100 relatori tra giornalisti esperti rappresentanti di associazioni e di imprese e membri delle istituzioni. Al Teatro della Fortuna si è tenuto il processo la transizione ecologica, pranzo di gala o massacro sociale. La transizione è diventata oggetto di un aspro scontro tra opposte visioni culturali e politiche. Il processo di Fano mette a confronto queste due opposte tesi sostenute da pool agguerriti di accusatori e difensori tra i primi Giuliano Ferrara, Francesco Borgonovo, Patrizia Feletig, Alessandro Ricco. Il pool della difesa è composto da Stefano Ciafani, Francesca Santolini, Francesco Starace e Diego Mingarelli. Nella giuria gli studenti delle scuole superiori di Fano, presidente Paolo Pagliaro. Circonomia contempla anche spettacoli, laboratori rivolti a bambini e ragazzi, presentazioni di libri, installazioni artistiche e mostre. È promossa da Comune di Fano, Regione Marche, Fondazione Carifano, Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, e Circonomia con il patrocinio di Rai per la sostenibilità ESG. Sì, Alessandro Ricco, luci e ombre per la transizione ecologica? Dal mio punto di vista più ombre, infatti faccio parte dell'accusa in questo processo che abbiamo imbastito oggi. Ombre non tanto perché qui ci sia una questione, come dice qualcuno, di negazionismo del cambiamento climatico, ma perché secondo me bisogna distinguere tra tre questioni fondamentali. La prima è se c'è o non c'è il cambiamento climatico, si può anche rispondere di sì tranquillamente. La seconda è se sia responsabilità dell'uomo o meno, su questo c'è dipattito, ma concediamo anche che la maggior parte della responsabilità sia umana. La terza domanda è però se alla luce di questo la transizione ecologica, il Green Deal, stile Unione Europea, sia la soluzione giusta. Dal mio punto di vista non è la soluzione giusta per i tempi con cui lo vogliono attuare a tappe forzate, una sorta di grande balzo in avanti, per il grosso carico di dirigismo e centralismo che implica in un continente che ha fondamentalmente 27 economie diverse, per i rischi geopolitici che comporta, ad esempio la dipendenza che trasferiremmo dalla Russia alla Cina, che è quasi padrona di tutta la filiera delle rinnovabili, oltre al costo economico di questa transizione che rischia di ricadere sulle classi medie senza nemmeno un paracadute. Quindi penso che sia, se non altro, utile riflettere e confrontarsi, anche perché questo è il sale della democrazia, altrimenti le decisioni ci vengono imposte non sono il frutto di una deliberazione democratica di esercizio delle nostre preziose libertà politiche. La transizione ecologica, perché è importante per il presente e per il futuro? Beh, è importante perché il pianeta ormai ce lo sta chiedendo in maniera molto evidente. Già gli scienziati negli anni Ottanta preannunciavano quello che ormai stiamo vedendo non solo nel pianeta ma anche sul territorio nazionale. Ci stiamo, tra virgolette, abituando a vedere alluvioni che tornano dopo qualche mese, ondate di calore, grandinate, gli uragani mediterranei che 30-40 anni fa eravamo abituati a vedere solo nell'America centrale piuttosto che nel sud-est asiatico. Quindi la crisi climatica ormai è arrivata anche nel Mediterraneo. Gli scienziati dicevano che sarebbe stato uno degli hotspot dell'emergenza climatica e questo purtroppo lo stiamo vedendo. È fondamentale farla, l'Italia, l'Europa, ovviamente la stessa cosa vale per gli altri paesi industrializzati e i paesi con economie emergenti, aiutando anche i paesi in via di sviluppo a praticare le stesse cose, aiutandoli economicamente. Ed è fondamentale farla perché è un'onda che sta crescendo nel mondo e se stiamo fermi rischiamo di essere travolti. Invece quest'onda va cavalcata, l'Italia che siede nel tavolo del G8 ha tutte le potenzialità per poter fare il paese leader su questo fronte perché non lo siamo solo nella moda, non lo siamo solo nelle automobili di lusso o nell'agroalimentare, lo siamo anche nella manifattura, siamo la seconda manifattura europea. sarebbe un suicidio nazionale quello di lasciare questa grande opportunità alla Germania, agli Stati Uniti e alla Cina. Quando si è cominciato a parlare di questi concetti di energia, sostenibilità? Beh, transizione ecologica sono due parole che stavano nei documenti delle cambianti degli anni Ottanta. 40 anni fa parlavamo di riconversione ecologica dell'economia, erano gli anni in cui ovviamente si combatteva la realizzazione di nuove centrali nucleari, prima del referendo dell'87, quando la tecnologia rinnovabile non era così matura come l'è diventata oggi. Quindi allora gli scienziati ci dicevano che aumentando le concentrazioni di gas serra nell'atmosfera saremmo andati incontro agli scenari che oggi abbiamo di fronte e già allora dicevamo che bisognava cambiare il sistema con cui ci muovevamo, con cui realizzavamo e vivevamo all'interno degli edifici o lavoravamo, la modalità con cui si produceva energia, la modalità con cui ci si muoveva. Tutto questo è un conto che abbiamo un po' accumulato nel tempo e che adesso il pianeta ci sta facendo pagare. È una grande opportunità anche occupazionale. Oggi ci sono 3 milioni di persone che lavorano in Italia nel settore dell'economia verde. Abbiamo la potenzialità per raddoppiare questi numeri da qui al 2050. Insomma, non lasciamo dagli altri paesi questa grande opportunità che ci sta passando davanti. Direttore, un evento fondamentale. Chi ha visto Fano protagonista proprio nell'anno di Pesaro 2024? Sì, è stato il primo anno in cui Circonomia, il Festival della Transizione Ecologica che è nato otto anni fa. È sbarcato a Fano. Sbarcato è la parola più appropriata visto che Fano è una grande città di mare. Sono stati quattro giorni di iniziative dense, di tante iniziative. Ci sono stati ospiti importanti, interlocutori importanti che si sono confrontati sui temi di cui il Festival si è occupato. Sono convinto che questa sia stata la prima puntata di una lunga serie che vedrà Fano come protagonista. Il nostro Festival si è inserito nella settimana fanese del programma di Pesaro, capitale italiana della cultura. E si può dire che per quei giorni, per i giorni di svolgimento del nostro Festival, Fano è stata anche capitale della transizione ecologica, della discussione sulla transizione ecologica, che è un processo indispensabile per fermare i problemi ambientali, per affrontare anzi i problemi ambientali, a cominciare dal più grave di tutti, che è la crisi climatica. Credo che sia anche però la transizione ecologica un'occasione per costruire una diversa economia, un diverso modo di produrre, di consumare, che non solo sia più attento alla qualità dell'ambiente, ma sia anche più attento ai bisogni veri delle persone. Di tutto questo abbiamo ragionato, su tutto questo ci siamo confrontati, anche con opinioni diverse, e credo che il bilancio di questo primo anno di Circonomia Fano sia un bilancio davvero molto positivo. Tante presenze, laboratori, argomenti di interesse pubblico, per il futuro ci sono già delle idee? Noi sicuramente da subito cominciamo a lavorare all'edizione 2025, che vorremmo ancora più ricca di eventi, quest'anno sono stati quasi 40, di ospiti importanti, che tra l'altro sono ospiti che molto spesso hanno conosciuto Fano o per la prima volta, o comunque l'hanno conosciuta bene per la prima volta, e quindi hanno potuto anche apprezzare la grande ospitalità e capacità di accoglienza di questa città, che è una città importante, è la terza città delle Marche, quindi non è una piccola cittadina, e che credo possa diventare davvero uno dei protagonisti, una delle città protagoniste della corsa che l'Italia deve compiere sempre più veloce verso la transizione ecologica. Assessora Cora Fattori, qual è il contributo del Comune di Fano in questa importante manifestazione? Noi abbiamo creduto molto in questa manifestazione, come contributo abbiamo cercato di renderla più visibile possibile all'interno della città, scegliendo anche il Teatro della Fortuna come luogo. Devo dire che facendo un bilancio di questa prima edizione di Circonomia, sono personalmente molto soddisfatta, e come amministrazione lo siamo, perché ha raggiunto il suo scopo, ci sono stati incontri partecipati, abbiamo parlato di temi importanti, ma soprattutto si è creata una discussione, si è creato un dibattito, si sono sollevate voci, ma finalmente, finalmente perché il tema della transizione ecologica era una cosa di cui si parlava, che alleggiava però sempre in momenti quasi distanti dalla popolazione, e invece vedere che si prende atto, si discute, dovrebbe essere più così, dovrebbe essere in un altro modo, ma ben venga, è questo che ci deve essere, ci deve essere attenzione, ci deve essere passione, ci deve essere la volontà, e quindi noi abbiamo raggiunto assolutamente il nostro scopo. Quanto al Comune di Fano è green? Il Comune di Fano dovrebbe essere più green, non dobbiamo dire le bugie, è green perché è attento a determinati aspetti, adesso abbiamo finalmente redatto il PAESC, che è il piano ambiente-energia, e attraverso quello pianificheremo una serie di, lasceremo la prossima amministrazione, di strategie per migliorare ulteriormente, rendere più green il Comune, però per farlo bisogna sensibilizzare l'amministrazione, chi lavora dentro l'amministrazione, e la città che sta fuori. Ancora c'è tanto da fare, anche se sui numeri siamo ben posizionati, sappiamo che non facciamo abbastanza. Grazie. 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 Grazie.